Presidente, è sempre più determinato, insomma non ci sono dubbi sul prossimo futuro, garantirà il calcio a Teramo a certi livelli? No, queste sono le solite domande che si fanno a fine stagione e a cui sinceramente non mi va di rispondere, perché comunque il periodo è quello che è, lo sapete benissimo. Quindi c'è un punto interrogativo sul futuro? I punti interrogativi ci sono sempre, in qualsiasi momento, poi stiamo vivendo una stagione eccezionale, sono due anni veramente difficili, ho preso questa squadra e praticamente ho dovuto fare tutto da solo nel corso di questi due anni con tutta la pandemia a mio carico, quindi sapete bene quelle che sono le conseguenze e come si deve gestire una società di strategia, è molto impegnativo. Però questo è stato l'imponderabile? Eh lo so che è l'imponderabile, però me lo sono comunque dovuto sorbire da solo, il problema è questo, che comunque resti sempre una persona da sola. Si riducono i costi, Presidente? Si riducono i costi, ma intanto i costi ad oggi ci sono, li abbiamo dovuti sostenere, li dobbiamo sostenere e quindi la squadra deve avere delle prospettive importanti, vedremo, vedremo quello che succede, vedremo se c'è qualcuno anche che comunque, perché visto che c'erano tante persone che volevano farsi avanti fino ad oggi e non si è fatto avanti nessuno, al solito qui si parla bene e si razzano male, questo purtroppo è un peccato di alcuni terramani. Però ci sono altre priorità, lei l'ha detto in questo momento, insomma è difficile la situazione che si vive a livello mondiale, c'è una pandemia purtroppo che è in atto e speriamo che si possa voltare pagina il più breve tempo possibile, però probabilmente il calcio in questo momento non può essere la priorità di un imprenditore. Assolutamente non è la priorità di un imprenditore il calcio, questo è poco come sicuro, quindi è di una comunità, deve essere una comunità e quindi questo l'appello nuovamente viene rilanciato alla comunità, finché se si vuole sostenere questa squadra si debbano dare dei chiari segnali, ma non di parole, ma di fatti. Speriamo che ci sia questa benedetta riforma perché se non ci dovesse essere veramente, ma io la vedo male per il proseguo della Lega Pro perché tantissime squadre stanno soffrendo, ancora di più aggravate da questa situazione pandemica. Lei chiede insomma al Presidente Gravina una riforma a partire dal 2021-2022, quindi immediata. Assolutamente sì, il Presidente Gravina ha fatto di questa promessa la sua base della campagna elettorale, speriamo che gli impegni degli assunti vengano questa volta mantenuti e non siano le solite promesse elettorali che si fanno, ma insomma non è solo una mia richiesta, è una richiesta di tutti i presidenti che gli hanno comunque confermato ad ampia maggioranza questo mandato. Quindi si vive la giornata. Si vive la giornata, sì, effettivamente si vive la giornata. Il Presidente Iachini a microfoni eccesi non si sente di dire che sarà garantita la continuità del calcio a terra? Non sono domande da fare. Siamo a fine marzo, Presidente. Ma che vuol dire questo? Questo vuol dire no, questo assolutamente non sono domande a cui mi piace rispondere, perché andare a prendere degli impegni, io sono una persona che quando assumo un impegno lo porto fino in fondo, quindi questi sono impegni che si fanno a fine stagione, a fine campionato, vedendo quelli che sono stati i risultati ottenuti di sforzi profusi e da cui si traggono le conseguenze. Le conseguenze, se andare avanti, continuare, sicuramente è come continuare. C'è anche la possibilità di fare, mi scusi se la interrompo, Presidente, qualche plus valenza, perché ci sono dei giocatori giovani che si sono messi in evidenza. Sì, certo, ma per carità, ma ci mancherebbe, lo spieghiamo pure che il plus valenza si devono fare rinnovando l'iscrizione al campionato. Però comunque dobbiamo anche capire come affrontare il prossimo campionato, se lo dobbiamo affrontare in una maniera conservativa, in una maniera offensiva, no? Questo è importante anche per le ambizioni che questa città vuole avere. Se questa città è ambiziosa a crescere, allora si devono fare determinati discorsi. Bisogna riflettere molto. Io non sono per la sopravvivenza. Non vorrebbe vivere la giornata, mi sta dicendo questo? Beh, allora, io non vivo mai la giornata perché tutte le cose... L'una cosa esclude l'altra. Prima abbiamo detto che bisogna vivere la giornata. Purtroppo si viva la giornata date le situazioni al contorno che abbiamo. Abbiamo delle situazioni molto dure, difficili, costi elevati, ricavi zeri, aiuti meno che zero. Quindi bisogna vivere adesso la giornata cercando di arrivare alla fine. Poi si devono fare le riflessioni per il futuro, è normale. Però le riflessioni adesso non possono partire solo dall'imprenditore. Le riflessioni devono partire da tante persone. A 360 gradi. Assolutamente sì. E con la posizione di Pace che comunque come primo anno all'esordio ci ha fatto molto bene. Ha fatto molto bene, ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, un ottimo aggregatore per quanto riguarda la squadra. La squadra è molto compatta, motivata e quindi sicuramente è stato un ottimo allenatore che ha tutta la riconoscenza della società. Riconoscenza significa che sarà rinnovato l'accordo? Noi ce l'auguriamo. Noi abbiamo già fatto una proposta prima di Natale. Naturalmente il mister vuole riflettere, facciamo riflettere. Di certo non ci mettiamo a far pressione, per carità. Noi abbiamo già dimostrato il nostro interesse. Perfetto, Presidente. L'ultimo è perché sabato ormai ci siamo. C'è questa trasferta allo Stadio Massimino, ex Cibali. Stadio fascinoso, pieno di storia. Ora è 12.30 e uno scontro diretto. Eh sì, è un bellissimo scontro che determinerà anche l'evoluzione della classifica futura. Noi scendiamo con la voglia di riportare a casa i tre punti, la determinazione di riportare a casa i tre punti. I ragazzi lo dimostrano, che hanno questa voglia di fare e speriamo di riportare a casa i tre punti. Mi sembra un po' scarico. No, è una sensazione sbagliata. Mi dica che è sbagliata la sensazione. No, 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 no. Non è né sbagliata né giusta. Sicuramente io sono anche un imprenditore, ho anche tante attività che devo andare avanti. Dopodutto a un certo punto essere solo al comando di un gruppo di otto aziende ti permette anche di avere dei momenti di cali, no? Anche riflessivi, fisiologici, come è stata la squadra quel tempo fa. Poi naturalmente, come dire, tutte le cose possono variare, nel bene o nel male. Speriamo che variamo bene. E torni, come dire, un po' di entusiasmo, un po' di forza ancora di più. Noi tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e penso che di questo nessuno ce ne possa dire che ci sono i soliti menagrami.